Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone, i Fratelli Italia, membro della Vigilanza Rai, capogruppo, per parlare con lui di quello che è successo nella trasmissione di da Milano. Allora, noi ormai siamo abituati un po' a tutto e abbiamo visto che della mischia è arrivato anche l'ospite straniero. Allora, come ha reagito a questa trasmissione e anche al comportamento di da Milano che ha cercato di prendere un po' le distanze da quello che è successo? Allora, strategia, tattica? È stata una pagina indecente della televisione italiana in piena campagna elettorale con il regolamento della Parcondicio, a cui abbiamo contribuito anche noi con la collega Sant'Anche, in Vigilanza Rai. Da Milano, che ripeto, è stato preso dal fallimento espresso e messo, con tutti i giornalisti Rai che stanno aspettando la regolarizzazione, è stato messo a condurre una striscia che aveva l'evidente compito di colpire il centrodestra e la destra. Cosa che ha fatto puntualmente, come un cecchino, in campagna elettorale, a pochi giorni dal voto, invitando il solito Lévy, con la sua solita prosopopea, arroganza e interferenza, che poi non si capisce che cosa centri un filosofo con la politica italiana, un filosofo francese, con un'invettiva vergognosa, indecente, anche da un punto di vista proprio di contenuti, e sono stato il primo a reagire, la sera stessa, mentre è appena finita, chiedendo appunto e annunciando un esposto insieme alla collega Sant'Anche all'Agicom, e chiedendo la puntata riparativa, e ipotizzando, insomma, di verificare se non ci fosse anche i presupposti per la sospensione, perché chi mette in campo una scarretta del genere sapendo che c'è la parcondicio, vuol dire che ha l'intenzionalità di violare la parcondicio, quindi è in mala fede, non c'è, non può dire, non pensavo che potesse entrare in parcondicio, quindi noi abbiamo chiesto, adesso aspettiamo l'Agicom, abbiamo chiesto un intervento durissimo, questo è il colpo di coda di una RAI che dovrà cambiare radicalmente, e che vedrà soltanto il merito, non l'appartenenza, come criterio per scegliere conduttori giornalisti. Da Milano come ne è uscito, considerando quello che poi ha detto, anche nell'intervista lui cercava un po' di prendere le distanze? Patetico, è stato semplicemente patetico, perché nella migliore delle ipotesi non sa fare il suo mestiere, cioè quello di conduttore, perché se non sa immaginare che un personaggio del genere va lì e nella sua prosopopea dice quello che vuole e quello che crede, ma peraltro anche le domande erano tutte tendenziose, tutte chiaramente finalizzate ad attaccare la destra e il centro-destra. Volevo dire un'ultima cosa sul fatto che non vengano utilizzate delle risorse interne alla RAI, allora se non sbaglio mi è sembrato di sentire che c'erano addirittura 2000 profili che si potevano prendere all'interno della RAI. Ma questa è la solita storia, noi siamo riusciti a far riconoscere alcuni precari giornalisti, una battaglia che abbiamo fatto con Gian Paolo Rossi prima che fosse defenestrato, ma in realtà è la solita storia per cui ai piani alti, quando governa il Partito Democratico, la RAI, come in questo caso, ci sono giornalisti e giornalisti, cioè quelli precari che devono stare muti in fila e rimanere precari e quelli che possono andare direttamente a condurre strisce quotidiane. Bene, la ringrazio, grazie a Federico Molligone e ai Fratelli d'Italia.